Io voglio andare a processo. La sinistra mi vuole andare a processo bene, voglio andare insieme a tanti italiani in quel tribunale, perché per me difendere i confini e la sicurezza del mio paese è un dovere. Se per qualcuno è un crimine, andiamo a risolverla una volta per tutte, fra uomini funziona così. Questo era quanto Salvini aveva dichiarato lunedì a Vicenza. Oggi è stato accontentato ufficialmente. L'Aula del Senato riunita ha votato sì alla celebrazione del processo. L'ex ministro dell'Interno dovrà quindi difendersi dall'accusa di sequestro di persona nel caso della nave Gregoretti. Ma cosa ne pensano i vicentini? Secondo me non dovrebbe andare a processo perché non ha proprio molto senso. Guardi, io sono convinto che è tutta una stupidata questa qui. Bene che lui abbia deciso di farsi processare, così vedremo finalmente chi ha ragione. Non deve essere toccato, lasciatelo stare. Secondo me faceva un bel lavoro, secondo tante persone della mia età faceva un bel lavoro. Personalmente credo che sia un atteggiamento di prevaricazione politica. Tutto orchestrato mentre ha difeso i confini nazionali. Non ha sequestrato delle persone, anche perché Conte e Di Maio sapevano di questo, non era solo lui che decideva. Di conseguenza deve essere processato anche il presidente del consiglio e quelle che erano le sue alleanze politiche. Logicamente deve essere assolto, deve essere assolto per il bene degli italiani. Secondo me ha fatto bene comunque, perché se uno deve essere sempre in dubbio, è meglio che uno, dopo ci sono sempre i giudici di mezzo, però che uno si metta a disposizione completa.